per i riuscire a farlo sinistra giù per i riuscire a farlo no, aveva saltato porca miseria ah è schifo ma dove vuoi? torna al retro non ne che questo mostro è brutto per i riuscire no, non è saltato giù 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 salta 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 destra sinistra salta destra troppo per i riusci vai giù no, che ci combina skip riavvi salta destra salta sotto al fondo destra sinistra e ora ho messo a camminciare camminciare destra un po' forte vino salta no questo mostro è camminciare come è brutto salta salta destra veloce in acqua scendi attenzione giù sinistra sinistra no che ha combinato devo passare a camminciare adesso devo passare a camminciare salta di monete destra sinistra in acqua attenzione qua per dove devo passare ah per sotto mannaggia avvi guarda po' pubblicità togli riavvi riavvi salta sinistra destra salta destra salta destra destra a chi ha visse con di che attenzione che attenzione di attenzione